Vigili del Fuoco in azione per il maltempo nella giornata di ieri a Sansepolcro. Il forte evento infatti ha provocato disagi e qualche danno nel comune Bitiurgenze, soprattutto a Tette e Comignoli del centro storico. I volontari del 115 sono intervenuti nel pomeriggio in Viale Osimo dove un albero per le forti folate era finito in mezzo alla strada. I pompieri hanno provveduto in poco tempo a mettere in sicurezza la zona. Subito dopo i Vigili del Fuoco, assieme alla protezione civile, sono stati chiamati per un intervento in piazza Torre di Berta, dove da qualche giorno erano stati sistemati i gazebo che avrebbero dovuto ospitare produzioni locali in occasione delle classiche fiere di mezza quaresima. Il vento però ha rovinato tutto. Qualche gazebo si è addirittura sollevato pericolosamente da terra. Le strutture, come mostrano le immagini, sono divenute presto inagibili. Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno provveduto a transennare l'intera piazza e a metterla in sicurezza. C'è da dire che, fortunatamente, tutto ciò è avvenuto a fiere non ancora iniziate. Se infatti tutto questo si fosse verificato nella giornata di oggi, con la folla che circonda solitamente queste strutture, la situazione sarebbe stata ben più pericolosa. Interventi per i Vigili del Fuoco anche nella mattinata di oggi in zona Copp. In via Jacopone da Todi, infatti, il vento aveva scoperchiato un capannone. In Frazione Paradiso, invece, c'è stato bisogno di abbattere una grossa quercia divenuta pericolosa. Le previsioni del tempo, intanto, non promettono ancora nulla di buono. Il maltempo dovrebbe continuare fino a venerdì. Il vortice depressionario presente sul bacino centro-meridionale del Mar Mediterraneo sta raggiungendo la sua massima intensità. Nelle prossime ore, però, la temporanea espansione verso l'Europa centrale dell'anticiclone atlantico determinerà la cessazione del flusso di aria fredda nord-europea diretta verso l'Italia. Grazie. Grazie.